Non basta una buona prestazione all'Amen per riuscire a passare sul parquet della Cea Virtus Siena. Gli Amaranto pagano una seconda parte di gara dove hanno concesso 51 punti agli avversari che infliggono così la prima sconfitta esterna alla SBA. Il primo quarto è equilibrato dove solo alcune palle perse di troppo in casa retina permettono alla Virtus di chiudere avanti sul 16-12. Nel secondo parziale è il momento migliore dell'Amen che concede pochissimo in difesa e in attacco riesce a superare gli avversari andando a riposo sul 30-25. A rientro in campo la partita diventa più maschia. La Cea aumenta la propria intensità mettendo in difficoltà la difesa a retina. I senesi spingono e si portano a più 10 sul 61-51. L'Amen si rifà di nuovo sotto ma le energie spese si esauriscono nel minuto finale quando con due difese consecutive senza subire canestro la Virtus chiude la gara. Finisce 76-69 risultato che premia la squadra di casa capace di imbrigliare il gioco a Maranto nel momento decisivo del match. Tre giocatori a retina in doppia cifra con top scorer Cutini autore di 18 punti spalleggiato da Rossi con 14 e Brandini con 13.